Fiorelli, mare inquinato a Pescara, ci saranno dei divieti all'inizio della stagione, lo ha detto il vice sindaco del Vecchio. La situazione è difficile e complicata, non è una novità. La vostra associazione cosa propone e cosa dice in merito? La novità in realtà c'è, la situazione è drammatica, ormai è già da febbraio e si prospetta una stagione del balneare davvero difficile, non soltanto per i balneatori ma per tutta l'economia cittadina. Pescara mi piace per prima di annunciare l'inquinamento quest'estate che era stato sottaciuto artatamente dal sindaco e dal vice sindaco del Vecchio, ma non l'abbiamo fatto per sollevare un problema quanto per trovare delle soluzioni che evidentemente non sono state né trovate né cercate. Oggi il sindaco denuncia il fatto con braccia concerte, sembra che non ci sia una soluzione, invece di attivarsi in tutti i modi per cercare quelle risorse che pur ci sono da dirottare immediatamente sul disinquinamento del fiume, stanno partecipando a sfilate contro l'inquinamento, ecco protestano contro se stessi, questa è la dimostrazione dell'incapacità totale di questa giunta. Divieti che potrebbero davvero mettere in ginocchio il turismo non solo della città di Pescara, bisogna fare qualcosa e probabilmente non è neanche un problema di colore politico a questo punto, data la gravità dei fatti. Ma è proprio questo il problema, che non si sta facendo nulla, che i divieti non si possono nascondere per risollevare il turismo, bisogna evitare, risolvere i problemi alla base dei divieti, per cui oggi già siamo in ritardo, bisogna muoversi immediatamente, tutti noi, opposizione, come maggioranza vogliamo un mare pulito, prima di tutto per noi stessi e poi per il turismo, quindi credo che le soluzioni vadano cercate e trovate, ma se non ci si attiva credo che è difficile che arrivano da sole. Allora credo che sia fondamentale che il sindaco si metta all'opera per cercare soluzioni, cosa che non sta facendo come tutta la giunta, stanno guardando da spettatori una situazione in cui bisogna essere attori, ma attori decisi e capaci.